Buongiorno a FTE Online, avvio negativo questa mattina per il Fuzzimib, c'è da considerare però che 18 titoli del paniere staccano oggi il dividendo con un effetto combinato di circa l'1%, quindi il calo in questo momento è dello 0,3%, ma senza considerare i dividendi in realtà avremo un rialzo dello 0,7% circa. Siamo comunque ancora di sotto dei 25.000 punti, resistenza critica che è originata dal massimo di aprile, messa sotto pressione più volte da quella data e per il momento ancora non superata, quindi fino a che saremo di sotto di area 25.000, questa fase laterale potrà essere vista sia come una zona di accumulo, quindi una pausa della tendenza rialzista che è partita dai minimi di ottobre, ma anche come una fase di distribuzione, pertanto preparatoria ad un ribasso, in questo caso ovviamente avrebbe i connotati di un doppio massimo e verrebbe confermata al di sotto di area 23.800 che è il minimo del 13 di maggio. La situazione è abbastanza simile anche per gli altri principali mercati, ricordiamo che oggi la Germania è chiusa per festività, questo è il grafico dell'Eurostox 50, vedete in questo caso stiamo guardando un grafico intraday, se tracciamo una linea di tendenza dal massimo del 10 di maggio, passante poi per quello del 17, vedete è stata toccata anche questa mattina, c'è stato un tentativo di superamento che è subito rientrato, la linea passa intorno ai 4030-4035 punti, sarà la rottura di quei livelli a confermare un'eventuale impostazione positiva, fino a quel momento c'è il rischio di una ritirata dai prezzi attuali. E questo è il grafico del CAC 40, quindi dell'indice della Borsa di Parigi, anche qui si nota chiaramente come i prezzi siano a confronto con una resistenza orizzontale molto importante, area 6.400, questa mattina si sono spinti fino al 6.408 ma sono subito tornati al di sotto della resistenza, quindi c'è probabilmente la voglia di andare a rompere, forse anche per via della chiusura del mercato tedesco e di altre borse nordiche, oggi non ci sarà con la partecipazione tale da permettere la rottura, ma da un punto di vista grafico comunque fino a che esseremo al di sotto della resistenza, anche qui si nota il rischio di una figura ribassista, in questo caso più che un doppio massimo possiamo parlare di un potenziale testa-spalle ribassista. Potrebbe dare una mano la Borsa americana a sbloccare la situazione, questo è il grafico del Nasdaq, l'ultima candela è relativa alla seduta di oggi, c'è questa forte esistenza intorno a 13.500 punti, 50% di ritracciamento del ribasso dai massimi di aprile, oltre a quei livelli ovviamente avremo un segnale di forza abbastanza incoraggiante, anche perché l'oscillazione viste nelle ultime settimane diventerebbero un doppio minimo, quindi ci sarebbe la possibilità di salire almeno in area 13.850, ma fino a che area 13.5 non sarà alle spalle, resta il rischio che la fase negativa ancora non sia terminata, quindi tutti gli indici che abbiamo guardato ci dicono che siamo vicini a una resistenza significativa, quindi un potenziale segnale di forza è imminente, ma ancora in nessuno di questi casi è stato inviato e bisogna pertanto rassegnarsi ad avere pazienza e attendere quello che potrebbe essere l'evoluzione prossima. Oggi ci occupiamo di due temi sostanzialmente, daremo un'occhiata ai grafici del petrolio visto che oggi è nuovamente in ascesa, come già era successo venerdì dopo una fase di assestamento e di correzione, e poi daremo un'occhiata a Generali che è sotto i riflettori per tutta una serie dei motivi che andremo a vedere. Ma iniziamo con il future sul WTI, quindi il petrolio americano, se andiamo a guardare lo storico di più ampio periodo vediamo che i prezzi sono su una resistenza orizzontale molto importante, i massimi dell'aprile del 2019 che erano stati toccati praticamente anche a gennaio dello scorso anno, poi messi sotto pressione a marzo e nuovamente adesso a maggio. In prossimità di quella resistenza si è disegnata questa figura a doppio massimo, abbiamo visto che venerdì dopo il completamento della figura ribassista i prezzi in realtà avevano reagito, fino a che saremo di sotto diare 67 dollari, però purtroppo questa resistenza orizzontale non verrà superata e quindi rimane il rischio di assistere poi a una nuova fase calante. Oltre all'area 67 quindi avremo un segnale di forza molto interessante che potrebbe anticipare il ritorno almeno in area 76-77 ma fino a che stiamo di sotto di quei livelli invece c'è il rischio di una fase negativa. La situazione ovviamente è molto simile per il Brent, cambiano le quotazioni ma l'andamento del grafico e lo stesso sul Brent circolano sul mercato target intorno agli 80 dollari, anche qui abbiamo una situazione di stallo in prossimità di una resistenza importante, sopra area 72 avremo un segnale di forza che appunto ci porterebbe almeno in area 80 se non in area 85 dollari, comunque diciamo che questi 80 dollari sembrerebbero in quel caso raggiungibili, attenzione però perché fino a che area 72 non sarà alle spalle questo movimento con una rapida discesa vista a marzo e una correzione più lenta nei mesi successivi potrebbe nascondere un pattern correttivo ancora non completato al quale mancherebbe una leg ribassista per terminare. Se dovessimo vedere le quotazioni che scendono al di sotto di questa linea vorrebbe dire che non si tratta più di una correzione ma di una vera e propria inversione di tendenza, però per il momento diciamo che questa ipotesi è ancora molto lontana. Notiamo che le quotazioni si sono mosse all'interno di un canale crescente dai minimi di aprile dello scorso anno e notiamo che se andiamo a calcolare la linea mediana del canale vedete nella seduta di giovedì e venerdì i prezzi erano scesi proprio sulla linea mediana e poi hanno tentato di reagire cosa che sta continuando anche oggi, quindi questa è una buona notizia, se dovessimo vedere però che questa linea viene invece violata tornerebbe subito d'attualità l'ipotesi di una ulteriore fase discendente verso la base del canale. Andiamo adesso ad occuparci dei generali, dicevamo che sotto i riflettori innanzitutto guardiamo l'aspetto dividendo, in questo momento il titolo è in caldo del 4-16% ma la motivazione è da ricercare nello stacco della prima tranche della cedola che è per circa 1€ senza considerare questo il titolo in questo momento sempre in rialzo del 2%, non in calo del 4% come invece abbiamo visto e ricordiamo che questo 1€ circa pagato è il relativo all'ultimo 2020, mancano ancora 0,46€ che verranno distribuiti probabilmente ad ottobre e sono invece parte del dividendo del 2019 che ancora non era stato distribuito il motivo per cui i generali oggi è sotto i riflettori oltre all'aspetto dividendo è anche perché ci sono voci riportate da Milano Finanza secondo le quali Unicredit sarebbe interessato a acquisire la compagnia assicurativa tra l'altro ci sono anche delle manovre sottostanti per cui sembrerebbe che in quel caso Mediobanca darebbe la sua quota di generali ad Unicredit e in cambio otterrebbe il controllo di Banca Generale che infatti oggi sta salendo nella versione del video riservata ai utenti patron andremo a guardare infatti Banca Generale e Unicredit quindi altri due protagonisti di questa vicenda oltre che Stellantis per la quale i broker hanno confermato i giudizi positivi ma occupiamoci adesso del grafico di generali dicevamo che con lo stacco del dividendo di oggi siamo tornati un po' indietro intorno ai 16,90€ quindi i prezzi sono appunto scesi nuovamente a di sotto di questo livello orizzontale importante intorno ai 17,25€ se andiamo a guardare l'andamento grafico delle ultime settimane vedete si è sviluppato tutto a contatto con questa trendline rialzista venerdì c'era stato un tentativo di allungare il passo dalla linea oggi siamo scesi nuovamente a di sotto per il momento la situazione di intorno a azione grafica è positiva c'è stato il superamento di tutta una serie di livelli di ritracciamento molto significativi il 61,8% poi se andiamo a guardare il 78,6% che è quello successivo vedete è stato messo sotto pressione anche se forse non superato in modo netto perché andiamo a guardare le candele giornaliere vi accorgerete che a parte quella di venerdì chiusura di seduta di sopra della resistenza poi anche quella di venerdì sulla marginale non c'erano state quindi questo 17,60-17,70 è un livello molto importante vedremo se il titolo riuscirà a recuperare rapidamente dopo il dividendo questo svantaggio se dovesse risalire abbastanza rapidamente sopra 17,50 ci sarebbe la possibilità di proseguire sulla fase di rialzo con un primo target sul lato alto del gap del 21 febbraio del scorso anno a 18,33 ovviamente bisognerà vedere innanzitutto se queste voci troveranno qualche forma di conferma e le valutazioni che farà il mercato per il momento non sembrano del tutto negative forse perché ancora le voci sono assolutamente a livello di indiscrezioni ma la prima reazione non sembra di un mercato particolarmente preoccupato dall'evoluzione di questa eventuale fusione o integrazione e graficamente però appunto quello che si può dire è che fino a che rimarremo al di sotto dei massimi di settimana scorsa la violazione oggi di questa trendline rialzista qualche timore sulla tenuta dell'up trend la pone quindi anche se c'è un appeal se vogliamo speculativo sul titolo in questo momento è meglio essere prudenti e rimanere alla finestra se dovessero scendere sotto la media esponenziale a 50 giorni che passa a 17 euro ci sarebbe una conferma della negatività invece sopra area 17,70 17,80 avremo una indicazione positiva vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo appunto che la versione completa del video è riservata agli utenti patron andremo a trattare altri temi interessanti e per quel che ci riguarda invece vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero